Dottoressa, quante sono in Italia le persone che soffrono di insonnia? Beh, sono tantissime e soprattutto la maggior parte dei problemi si sono, diciamo, generati anche riguardo a questa situazione. Diciamo che avevamo fatto un sondaggio noi dell'Eurodap a cui avevano risposto diverse persone e l'83% di queste dichiaravano di avere problemi di insonnia. Sono aumentati i casi in quest'ultimo anno e se sì in che modo è inciso la pandemia? Sicuramente c'è stato un notevole aumento dei casi regati ai problemi del sonno in quest'ultimo anno e la pandemia ha sicuramente inciso in questo poiché ha completamente disequilibrato tutti i nostri ritmi e ci ha modificato la nostra routine. Il ritmo sonno-veglia è diventato un po' più difficile da mantenere perché la maggior parte di noi è rimasto a casa per cui tutte le cose che noi facevamo generalmente come uscire, andare al lavoro, mettere la sveglia e si sono un attimino modificate. E quindi la qualità del sonno influisce poi sulla quotidianità? Sicuramente, la qualità del sonno influisce moltissimo sulla quotidianità. Infatti la maggior parte delle persone poi riferisce di avere problemi di concentrazione, di essere molto stanca, di bere più caffè e anche l'attenzione è un problema e quindi è chiaro che il sonno crea tutta una serie di problematiche anche sulla nostra persona. E aumenta anche lo stress? Sicuramente, perché aumenta la produzione, cioè l'assenza di sonno aumenta la produzione di cortisolo, quindi aumenta anche lo stress. E quali sono i principali sintomi dell'insonnia? Intanto ci sono diverse insonnie, nel senso di chi ha difficoltà ad addormentarsi, chi invece ha diversi risvegli durante la notte e chi invece si sveglia molto precocemente o chi addirittura non riesce proprio a dormire, cioè dorme pochissime ore a notte. È chiaro che c'è una… è personale, però diciamo che mediamente appunto sono quelli che ho indicato prima, difficoltà a concentrarsi, senso di ottundimento, difficoltà di attenzione, diminuzione della performance e tutto ciò che riguarda, diciamo, la parte più cognitiva. Ci sono delle soluzioni? Che cosa si può fare? Allora, sicuramente una buona igiene del sonno è fondamentale, soprattutto in questo periodo, perché ci permette di mantenere la nostra routine di sonno-veglia. Per cui cercare di mantenere i nostri ritmi circadiani più regolari possibile è sicuramente un'ottima idea. Però è chiaro che anche cercare di non fare attività fisica troppo vicino alle ore di andare a dormire o cercare di non mangiare cibi o ricchi di grasso o degli eccitanti, evitare la sigaretta prima di andare a dormire potrebbe essere un'ottima idea, perché a differenza di ciò che si pensa la nicotina in realtà è un'eccitante, per cui è chiaro che incide sul nostro ritmo del sonno. E poi ovviamente ci sono dei rimedi che non necessariamente farmacologici, ma tutti quei rimedi che possono passare dalla nutrizione a degli integratori, in particolare ci sono dei rimedi di nuova generazione che hanno dato grandissime risposte e sono tutti quegli integratori che sono attivatori delle sirtuine. Sicuramente ci sono dei farmaci, però bisogna stare attenti perché i farmaci che aiutano, diciamo vengono utilizzati per dormire, mediamente, non tutti ovviamente, però mediamente sono degli ipnotici, per cui creano grande dipendenza e abbastanza effetti collaterali. Inoltre se interrotti repentinamente senza l'osservazione di un medico possono creare l'effetto contrario, per cui se prima ci potevano aiutare a dormire, se li interrompiamo di botto, diciamo che possono creare invece insonni. Comunque è sempre consigliabile rivolgersi a un esperto? Assolutamente sì, perché non è un problema che va sottovalutato e appunto proprio perché a lungo andare incide su tutta la nostra vita, perché il sonno non serve per riposare il corpo, almeno non in prima battuta, ma serve per riposare il nostro cervello. Grazie per la visione! Grazie!